Pira ancora, c'è volta, se c'è qualcosa da imparare, ancora c'è volta, pira. Sono io, oppure sei tu, che non mi ha dato più con mano, per me giocare un ritorno, sempre l'ultima mano. Sono io, oppure sei tu, che asbagliamo più forte, che veramente non mi ha dato più con mano, ci sei trovato anche da morte, sono io, oppure sei tu, alzati che si sta alzando, la canzone è popolare, c'è qualcosa da dire ancora, c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando, la canzone è popolare, c'è qualcosa da capire ancora, c'è qualcosa da dire ancora, grazie, grazie, benvenuti a tutti, grazie sindaco Sala, grazie Piero Francesco Maiorino, abbiamo scelto la canzone popolare di Ivano Fossati, 1996, se te lo che porti bene, anche lì eravamo tutti uniti, anche lì eravamo tutti uniti, e abbiamo sconfitto per lo scone, e adesso dobbiamo cercare di sconfiggere il peggior presidente che la regione lombardia che ha mai avuto. I lombardi non se lo possono meritare, sostanzialmente questa gestione della regione. Permettetemi però, prima di lasciare il microfono al sindaco Sala, di ringraziare chi in questi poco più di due mesi, ci siamo trovati il 3 dicembre, il 3 gennaio, insieme, ti ricordo oggi è il 4 febbraio, sembra una vita, però ci sono poco più di due mesi, chi dietro il quinto si sta adoperando giorno dopo giorno per consentire al patto civico di ottenere il successo che merita. Io volevo ringraziare Andrea Rosio, Silvia Bettiniti, Roberto Nero, Matteo Marcini, Luca Fusetto, Giuliano Marcello, Giuliano Bertini, Tio Rota, non sono candidati, ci stanno mettendo l'animo in corpo, e così siamo nella fase finale della competizione e dobbiamo assolutamente lavorare per che questa settimana sia il più profigua possibile. Io lascio la parola al sindaco Sala, di Cino. Grazie. Io c'ho il posto di Salvatore, perché poi vado giù. Grazie, grazie di essere qua. Cominciamo dai ringraziamenti che non sono dovuti, ma sono sentiti. Perché guardate, la campagna elettorale non è una passeggiata di primavera, perché oggi c'è un po' di aria di primavera. che battecosa, a volte aspra, a volte porta anche a atteggiamenti sbagliati, un po' da tutte le parti, però è anche un momento estremamente vero. Innanzitutto un momento di generosità. perché non è che tutti questi, e poi ce ne sono anche lì di candidati, si candidano perché sanno che saranno eletti, ma lo fanno molto anche come atto di generosità. Chi vive, chi è il capogruppo in questo percorso, come Pier, si deve fare ovviamente un mazzo tanto, vedo la sua agenda, ed è veramente terrificante. Ma questo incontro con i cittadini, lo stare assieme in questo momento storico è quanto mai importante. Poi, sia chiaro, momenti come questi servono, secondo me servono, perché dobbiamo certamente darci un po' a rimorare, ma anche per trovare le parole giuste che ci porteremo fuori da qua, perché lo dicevo ieri a Berlusconi, quindi siamo qua, qua, in questo momento altri voti non li portiamo a casa neanche io, non siamo tutti noi. Quindi, è abbastanza evidente che non è questo preciso momento nel momento in cui portiamo a casa i voti, ma dobbiamo trovare le parole giuste. Allora, io vi do il mio piccolo contributo per cercare di trovare le parole giuste. Non mi dilungherò, perché poi, chissà quante volte ne avete sentito parlare, di la sanità, il trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Fatemi però dire una cosa che di nuovo dicevamo ieri a Bergamo a proposito di questa autonomia e di questo spazio che sta prendendo questo dibattito, al di là che vi è chiaro che arriva adesso senza nessuna base, perché siamo in campagna elettorale. però una cosa precisa è, lo diceva ieri il mio collega Gori, la nostra normativa italiana parla molto chiaro, dice che le regioni hanno il potere, possono avere il potere legislativo e i comuni il potere amministrativo. Ora, l'amministrazione, se non c'è i soldi, non la fai. quindi io dico solo questo, che non mi va questo percorso per un paio di motivi. Uno non è per niente definito, guardate, possono fare tutto tendenzialmente. Si ipotizza un'autonomia regionale a livello energetico, ma come se la Basilicata andasse a trattare con la Libia sul gas. Perché questo è il punto, ma non è una battuta, è così. Cioè si ipotizza di tutto, quindi non c'è nessuna definizione. E la seconda cosa, se noi facessimo rigorosamente, come farebbe una famiglia o un'azienda, un'analisi di quanto di buono e quanto meno buono hanno portato le regioni, e non è che viene fuori un quadro totalmente confortante. Quindi prima di dare gli altri soldi, altre risorse, altri ruoli, pensiamoci bene. Quindi da questo punto di vista io vi invito a il mio, cioè quello che io cerco di dire è che io non è che sia contrario a livello di federalismo, si può discutere, ma fatta così, così male, senza un'analisi di quello che è stato, non va bene. Allora, da questo punto di vista la nostra regione ha veramente tante periche. La regione già oggi ha ruoli larghi e profondi, però io ho in mente il dibattito che abbiamo avuto e che abbiamo ancora anche sull'area B, dove io capisco che facciamo cose che dal punto di vista dell'equità sociale a volte possono creare problemi, volete che non lo capisco, però so anche che quando vado a trovare su oggi a Brescia, prendo la domanda di me, io sono anche contento in un specifico momento perché non c'è nessuno, ma non c'è mai nessuno, per questo ha fatto strade e basta. E perché oggi parliamo dell'area B? Perché sulla ferro e sullo sviluppo del trasporto pubblico in generale non hanno fatto niente, niente. E poi dicono che bisogna, e questo lo dice sia Fontana che Amoratti, cambiare la sanità lombarda. E che cavolo, ce lo dicono loro, per cui è chiaro che vi sia chiaro che l'autonomia porterà le regioni come la nostra a concedere ancora di più al privato e a togliere la pubblica. E questo non è quello che noi vogliamo. Per cui io credo che tutti noi siamo qua e siamo qua a combattere con i leoni perché Pier vinca, perché Pier ha fatto al di là delle qualità della persona e veramente non ci voglio tornare, sapete quanto quanto sono legato a Pier e è inutile in questo momento ribadirlo. Ma ha fatto un'esperienza in Comune, in Europa per farla ragione per cui arriverà molto preparato, conosce le logiche del territorio, cosa ti chiedono le persone, cosa ti chiede, cosa i simili cittadini ti chiedono a un sindaco, un assessore, conosce le logiche europee. Quindi è un candidato, è il miglior candidato che potevamo avere. Poi, noi tutti ci speriamo, noi tutti lottiamo, dobbiamo sapere che si arriva a decidere l'ultimo momento, però la riflessione che vi invito a portare ai vostri amici, conoscenti, adesso si sente dire che probabilmente l'affluenza sarà tra il 50-55%, immaginate che il vaccino, ma non chiamiamoli neanche indecisi, perché magari uno è indeciso, l'altro è pigro che non vuole andare, l'altro dice che va al mare, l'altro dice che sono tutti uguali. C'è tutto un mondo, cioè quando hai a disposizione uno spazio leggero, non puoi immaginare che la partita si chiuda. Non è chiusa per niente, è molto aperta la partita. E dite un'altra cosa, a differenza delle elezioni comunali, quello che si vota il 12-13 febbraio è quello che deciderà di sortire le elezioni. Non c'è il ballottaggio. A noi è banale, ma non è così banale. Quindi bisogna ragionare sul tema del voto utile. Guardate, il tema è il voto utile. Io non prendo come oro con l'altro tutti i sondaggi. Ma quando faccio politica vedo sondaggi a sfare. Però, per esempio, guardate, nelle ultime elezioni i sondaggi disegniamo la colpito fuori. Quando c'è una convergenza assoluta di tutti gli istituti che fanno analisi elettorale, è così. E oggi c'è una convergenza assoluta. Sono in gara in due. Fontana è pieno. Punti. Votare per altri è inutile. Questo è il messaggio. Chi può mandare la casa deve votare a pieno. Non c'è niente altro. Dite sta cosa qua. E dite che non ci sarà una seconda chance. E dite che ci dovremmo altri cinque anni. Ma il punto è questo. Non c'è una seconda chance. Per cui insistete su questo tema qua. È un voto. Il voto utile vuol dire votare questo signore qua. E questi signori qua. La lista civica è estremamente importante perché di nuovo, tornando al tema della generosità e dell'impegno, tutti noi a volte abbiamo un po' questo atteggiamento. Sì, ma i partiti, sì, ma guarda, quello lì, sì, ma guarda. Vengano persone che si mettono in discussione e che danno del loro tempo e che danno della loro esperienza. Tra l'altro con esperienze estremamente differenziate ma guardate, con noi scappati di casa non ci siamo solo, per essere molto divertenti. E noi vogliamo persone che, di saper fare le cose e di essere integri, di essere persone apposte. Questo è il punto. Per cui, votate poi per chi volete. Però io pongo grande attenzione a queste persone, a questo pazzottino civico e anche agli altri che so che sono seduti e saranno candidati perché è una grande occasione per tutti noi. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.